Dopo la bocciatura del referendum chiesto dal Comitato No Fusione Torrita-Montepulciano, è il PD torritese che risponde alle accuse mosse nei suoi confronti, secondo le quali il partito sarebbe da qualche mese silente. Il Partito Democratico, ma mi verrebbe da dire proprio le forze di coalizione di centrosinistra, sono tutt'altro che silenti o assenti. Noi ci siamo stati, vogliamo esserci, ci saremo e anzi, a onore del vero, abbiamo proprio cercato fino ad oggi di trovare dei momenti di dialogo, di discussione con il Comitato No Fusione. È già da ottobre che in maniera ufficiosa, ma da novembre in maniera ufficiale, abbiamo cercato di coinvolgere il Comitato No Fusione in un dibattito alla pari, in uno spazio neutro nel quale, lontani dalle tifoserie, magari moderate addirittura da un giornalista, quindi una persona super partes potesse mettere in condizioni la cittadinanza di riflettere in maniera concreta e oggettiva su quelli che possono essere gli aspetti potenziali o non potenziali della fusione. Noi comunque crediamo che il Comitato No Fusione porti avanti una campagna più che legittima. Allo stesso modo crediamo che sia importante non dire delle falsità. Secondo il Comitato, la decisione del Collegio di Garanzia di bocciare la proposta di referendum sarebbe un'ulteriore forma di negazione della democrazia ai cittadini di Torrita. Sul fatto che questo non sia quello proposto dal Partito Democratico, ma dalle forze di coalizione, quindi anche il Partito Socialista, non sia un processo democratico, beh, noi siamo di tutt'altro opinione perché noi abbiamo elaborato un progetto politico, abbiamo cercato di farlo conoscere la cittadinanza, ci siamo dati un tempo, a nostro modo di vedere, le cose piuttosto congru, quindi due anni per poterne discutere, per poter analizzare in maniera concreta, con fatti, numeri alla mano, e qui entra in gioco appunto la commissione che fa lo studio di fattibilità. La proposta del Comitato No Fusione è stata prima quella di posticipare l'esituzione di questo studio di fattibilità di sei mesi, poi con la richiesta del referendum di anticipare di un anno e mezzo il referendum. Quindi, di fatto, a me sembra che il Comitato No Fusione abbia cercato di castrare quella che è una discussione necessaria su un argomento così importante.